Baby Gang nel mirino delle forze dell'ordine per contrastare un fenomeno dilagante che terrorizza diverse città del paese. E' in corso da questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato che sta impiegando oltre 500 operatori coordinati dalla SCO, il servizio centrale operativo della Polizia di Stato in 14 province, tra cui Palermo e Catania, teatro di recenti episodi delittuosi riconducibili a gruppi criminali giovanili. Gli interventi hanno riguardato soprattutto aree di aggregazione giovanile e in contesti vicini al mondo dei trapper. Sono diversi gli episodi di violenza giovanile che negli ultimi mesi hanno riguardato anche le principali città siciliane, dove spesso nel centro città operano bande di minorenni che seminano il panico tra i cittadini, trasgredendo qualsiasi regola del vivere civile e rendendosi a volte protagoniste di veri e propri comportamenti criminali. L'attività è stata svolta dalle squadre mobili e dalla Cisco competenti che, dopo preliminari investigazioni e anche mirati monitoraggi di alcuni social network, hanno valorizzato il patrimonio informativo acquisito dai predetti uffici della Polizia di Stato nell'ambito dell'azione di contrasto alle baby gang e allo street bullying. Una quarantina di persone, di cui circa il 25% minorenni, sono state arrestate e ne sono state denunciate circa 70. Sono state sequestrate pistole, armi da taglio e tirapugni, nonché centinaia di dosi di droga, alcune delle quali nei pressi di un istituto scolastico e diverse somme di denaro per un totale di circa 10.000 euro, per lo più provenienti da spaccio.